una canzone bellissima con un testo meraviglioso si chiama seven years eh il cantante di questo gruppo si chiama lucas gram ma attenzione lucas gram è il nome della band è come se il cantante di un gruppo si chiamasse elio e uno deve dire però gli elio non succederà mai o i bon jovi o i bon jovi o i luca sardella se facessero la band potrebbe essere quello grande luca tutto chiaro sì ma è tutto chiaro sì sì stavo riflettendo mi viene in mente qualcun altro tira per dopo 30 secondi e cominciamo c'è cordialmente tutti d'accordo grazie alione star male dopo aver mangiato una frittura di pesce che a prima vista non sembrava indigesta l'apparanza inganna mirano la città dove l'expo è terminato ma i lavori dell'expo no carlo conti dichiara di aver già identificato la supermodella che prenderà il posto di madalina genea nel festival al duemiladiciassette i giornalisti si sono affrettati a definirla la nuova genea il web e internet sono la stessa cosa sanremopoli scandalo al festival cantanti sorpresi dalle telecamere della guardia di finanza a timbrare il cartellino all'aristone a poi andare in giro a fare le compere un nuovo nome antico e quindi nuovo per la tua radio vai poi tu fanne quello che vuoi radio di iota rocco ante clementino perché secondo me nei loro brani non si parlava a sufficienza della realtà di napoli il maestro kuhanto picchia conosce un colpo segreto di karate metafisico che invece di uccidere due giorni dopo fa un male della madonna subito la serta i don't wanna take your hair i don't wanna take your time abelino ben tornati eccoci dagli studi di radio di iota la radio intelligente la radio che non è neanche tanto lontana dagli studi della fiera campionaria da cui trasmetteva la rai quando eravamo piccoli gli è nelle storie tese nelle persone di rocco tanica faso cesareo e elio stesso in compagnia di linus matteo curti alex farolfi ospite a sorpresa mangoni si accingono a dare vita a una nuova imprevedibile anche per loro stessi puntata di cordialmente tutti d'accordo quante persone linus chi ci aveva mai pensato io dopo tanti anni perché sono più di vent'anni ormai mi rendo conto solo oggi di quante persone siamo noi e del perché siamo gli unici fortunati a trasmettere da questo studio che in realtà è molto grande perché siamo in tanti per fare un programma grande ci vuole uno studio mi ricordo ancora quando trasmettevamo tutti raggruppati dallo studio piccolissimo esatto eravamo tutti uno addosso all'altro che bei temi ma guarda qua sotto gli architetti erano stati incontrati da un vigile che li vedeva passare con tutte queste travi pezzi di cartogesso ma dove andate con questo dobbiamo fare uno studio grande come la pubblicità come la pubblicità che è grande per tanto tempo esatto bene bentornati amici voglio chiedere a Rocco Tanica se gli hanno mai chiesto finora se è parente di Rocco Hunt eh prova a farlo tu sei parente di Rocco Hunt? sì così non piaceva ma lì non so sapevi che invece si dice che Rocco Hunt sia un figlio illegittimo di James Hunt davvero il pilota quando veniva in Italia sai che ne ha sempre avuto un sacco di fighe lui ma perché ha dovuto come si dice tradurre il cognome lui si chiama Rocco Caccia perché ha voluto perché gli ha un flavor più internazionale ah flavor bravo comunque io sono parente di Rocco Hunt veramente davvero attenzione attenzione casa Mangoni casa Mangoni manda una sigla ma una sigla questo è uno scoop pazzesco tra l'altro io devo dirti che avrei pensato più Clementino e invece no un imparentamento con Clementino con Rocco Hunt con Rocco Hunt perché c'è una cugina della mamma di mia moglie che c'è due figlie una molto brava che studia università eccetera e quell'altra invece che scappestrata scappestrata e due vuoi andare a parare che però si è fidanzata con Rocco Hunt è fidanzata è una parentela che potrebbe anche interrompersi è da parecchio che è fidanzata Mangoni non ti voglio correggere perché sai che è l'ultima cosa che vorrei fare al mondo ma i gradi di parentela non comprendono il coniuge cioè il coniuge non è parente ma giù nel meridione ma giù si bravo in pari tutta famiglia giù ti porti di questa parentela acquisita forse anche un po' precaria cosa canterai questa sera? sicuramente una canzone di Sanremo nessun grado di separazione la seconda Francesca Michelin Francesca Michelin Michelin no Michelin c'è da dire a parzelle di scolpa di Mangoni che anche Conti ha detto per tutto il festival che fa il paio un po' come con X-Factor Elio me lo potrà io non voglio mettere in piazza tue cose private però tu hai fatto X-Factor e a X-Factor sono 9000 anni che c'è Luca Tommassini e tutti dicono ancora Tomasini è stata una bella performance poi grazie alla bellissima scenografia di Luca Tommasini lui ormai era segnato era segnato però quando arriva uno che lo chiama Tommassini lo abbraccia l'ha fatto anche con me l'ha fatto con me qui in studio ecco io pensate che l'ho chiamato Tomasini e non ha apprezzato come la litizzetto con una tisola eh vabbè ma sono piccoli trabocchetti sulla lingua italiana è come Nina Zini con 5 I come molti questi nomi questi nomi strani da pronunciare che erano scompiglio per esempio quest'anno si è parlato tanto di una Patti Bravo sul palco quando chiaramente era Patti Bravo sono due diverse tu le confondi no appunto no perché sono due è l'ignoranza andiamo per gradi cominciamo con le posie reti che vendono tutte le volte scritte per noi da Hermes Palinsesto è facilissimo è Palinsesto pensa che nei miei ricordi sono tanti anni per me era sempre stato Palinsesti no 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 c'è stato un momento che è stato anche Palinsestus perché gli avevano detto che il latino che lui ha studiato al liceo peraltro sarebbe stata la lingua con cui si può parlare in tutto il mondo che poi è vero stavo semplicemente invitando gli ascoltatori a mandarci le proprie di poesie e spiegando come devono scrivere l'indirizzo mail Matteo com'è l'indirizzo mail? l'indirizzo mail è Hermes Palinsesto quindi sulla tastiera bisogna avere un'incertezza vorrei fare una precisazione scrivere le poesie ermetiche di Hermes Palinsesto per Hermes Palinsesto all'indirizzo cose per cordialmente at dj.it che è l'altro indirizzo che arriva a questo programma non moltiplica le possibilità di essere scelti dal maestro un po' indirizzo un po' indirizzo è vero è vero ma questo bisogna dirlo perché tanti ragazzi e tanti giovani artisti che sono animati in realtà da un grosso afflato artistico hanno voglia di comunicare tendono a rompere le palle con insistenza infatti non meravigliatevi se la vostra poesia non viene letta probabilmente probabilmente se la vostra poesia non viene letta è perché l'avete inviata ha un po' troppi indirizzi e ha creato lo sguassone anche anche magari questa è una condizione melodrammatica perché avete fatto l'indirizzo troppo velocemente come ai tempi delle televendite che dicevano fatelo piano piano fate il numero lentamente pensa che bello questi ragazzi fortunati Faso che hanno la possibilità di mandare via mail una poesia invece a Hermes che ogni volta diventasse uno stratagemma questa volta ma guarda questa volta qua pensavo sinceramente di non averla ricevuta quindi mi sono arrivate a casa le mie copie esatto infatti bravissimo mi sono arrivate a casa le mie copie del nostro nuovo cd me lo stavo scontando ah intendi figata de blanche figata de blanche improvvisamente sento un malore sento un malore sento un malore te ne ho parlato ho anche tutti gli occhi rossi capillari all'intestino sì sono stato praticamente sul water voglio dire con atti di vomito terribile per tutta una notte e alla fine sono passato al catino perché dicono di fianco al letto di fianco al divano così alla mattina guardo nel catino è incredibile praticamente erano formate le mie sì praticamente come i fondi del termine nei fondi del vomito ma come ma come ha fatto l'inus ma è la poesia così tante volte ha appoggiato il foglio tante volte dalle macerie dalla distruzione nasce un fiore l'inus ma come ha fatto ha fatto come per far comparire i messaggi segreti o l'ha scritto prima col limone sul catino pensa che una mia amica scriveva i messaggi con l'imene un'altra limonando oppure l'ha scritto con una non so con la colla vinilica sul fondo del catino un po' è andato via dei pezzi grossi e quelli piccoli hanno scusa scusa ma anche con l'imene poi devi bruciare un po' il foglio si no passi il fiammifero dopo e viene fuori la scritta lo fa con l'alfabeto Morse lo fa al mercato del pesce la prima poesia si chiama così al mercato del pesce su scivolosi banchi suscita interesse quel che sushi diventa barcati gli usci del ristorante dove di pesce ti pasci e questo è un Hermes anche un po' da datato se vogliamo città indissolubilmente legate pensare ad Alessandria di getto fa venire in mente Alessandria d'Egitto e ora due poesie selezionate dal maestro Paris VI composte per noi da due giovani virgulti della poesia ermetica contemporanea Luigi Iannelli il primo Marco Ongaro il secondo ma non era Luigi Iannello Iannelli ma anche non era Marco Ongari mutazione arbore il pioppo che ho il giardino è stato colpito da un fulmine e adesso è l'acero bellissimo spensierata infanzia con il tempo ho imparato che alla fine quello che conta deve cercare quelli che si sono nascosti come racconti è stupendo bravissimo questi ragazzi stanno andando alla grande ma è anche tempo che Hermes si faccia un po' da parte diciamolo allora per darvi l'idea di quanto lavoro c'è dietro l'uscita di un disco uno pensa che in due mesi hai fatto tutto il cantante di questa canzone bellissima all'interno di Figata De Blanc di Elio De Storetese ahimè se ne andava proprio in questi giorni due anni fa il che vuol dire che l'avete incisa tantissimo tempo addietro lui era Francesco Di Giacomo quello del banco del mondo sul corso una voce che era una bomba e la canzone infatti si intitola Bomba intelligente su Radio DJ con gli Elio sostenendo con la forza della ragione dal disco Figata De Blanc una figata di canzone con la voce pazzesca di Francesco Di Giacomo no Linus ti sei sbagliato che voce ce l'ha solo però hai detto bene Linus voce pazzesca che voce pazzesca Francesco Di Giacomo del banco del mondo soccorso ragazzi bravi che l'avete messa nel disco bravi bravi i complessi storici degli anni 70 e anche 80 che abbiamo avuto in Italia Linus la musica prog che bello vi siete formati che musicisti meravigliosi ma neanche tanto prog ogni tanto più barocca musica bella ma si ascolti riascoltando anche i cantautori di quell'epoca lì ci ascolti Finardi per esempio c'è un The Best di Finardi che piace tanto a mio figlio sotto le canzoni di Eugenio c'è gente che suona come dei pazzi oggi non lo farebbe nessuno parlando di musica ragazzi la prossima rubrica è dedicata al festival della canzone italiana attualissima va ora in onda festival di Sanremo retroscena gossip inaspettatezze di una kermesse di tipo bello che che se ne dica che non manca mai di contentare grandi piccini e medi con le sue potremmo definirle cose legge il disc jockey che sta insegnando al mondo dei disc jockey come si leggono le rubriche LENOS è salvata questa bello gli stadio trionfatori dell'ultimo festival devono tantissimo alle nanotecnologie davvero? sì pochi sanno infatti che la formazione degli stadio non è di quattro elementi ma di sedici solo che dodici su sedici sono componenti microscopici che in tv non si vedono o si vedono a malapena per esempio Carlo Maria Murena il sassofonista è alto soltanto 5 nanometri pari a 5 miliardesimi di metro ciò non gli impedisce però di essere molto bravo e beccare più fighe di curreri questa è una roba che a Gaetano non gli va giù sta parte con cui però di Carlo Maria io lo conosco e lui non si era mai menata per questa cosa di essere alto solo 5 miliardesimi scusatemi però però lui ha un problema che ha un volume di suono di sassofono molto 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 basso anche il sax è difficile da costruire ma una cosa sugli stadio che sanno in pochi che all'inizio proprio inizio inizio erano 80 mila inizialmente poi dopo ne hanno tolti un po' perché erano in troppi e sul palco non ci stavano un'altra cosa che pochi sanno degli stadio che quando loro quando loro viaggiano lasciano sempre un pezzo ogni volta pochi sanno che Irene Forraciari è la cantante ufficiale dell'inno della Correa del Nord ciò comporta per lei i continui viaggi a Pyongyang per cantarlo il problema si verifica quando lei ha altri impegni e non può andare per esempio durante Sanremo in quei casi in quei casi il re ne manda un sostituto generalmente manda Chiellini della Juve ma anche lui spesso deve fare le partite e allora manda Moreno Morello questo sta facendo montare la tensione Italia-Correa del Nord in modo palpabile ed è un attimo che scatta la fucilazione di chi? di tutti ma non sono loro tre cioè di tutti poi sai che quello della Correa del Nord non è che sia contento di fucilare tipo ti lega sull'isola e poi ti bombarda e ti fa mangiare dei cari momenti di sgomento mista e gratificazione per Maddalena Maddalena Ghilea Ghilea la bella e brava valletta figa mi piace come definizione che parte morbido e arriva dritta è stato calcolato che durante ogni spostamento palco camerino Maddalena veniva avvicinata da una media di 10-15 persone che la volevano leccare e sdrammatizzava sempre con una sonora risata ecco spiegate le 10-15 sonore risate che sentivano in lontananza prima e dopo i cambi dentro adesso hai capito come dice adesso il prossimo cantante bravo i più attenti avranno notato però che oltre alle 10-15 sonore risate c'è stato anche a un certo punto un gemitino lì è quando noi abbiamo incontrato e siamo riusciti a leccarla guai giudiziari per Rocco Hunt il comitato per la SP la sciaria parte europea lo ha ammonito perché a Sanremo non ha detto abbastanza volte Napole Rocco si è giustamente difeso dicendo che in compensa ha detto più volte che a noi giovani lo state ci ha abbandonato il comitato ha dovuto riconoscere la sua buona fede definito tutto a pastierucce e vino ricordiamo però che Rocco è di Salerno quindi non sarebbe neanche obbligato sì però dire Salerno nelle canzoni non suona bene come Napole ma anche delle varianti Salerno è mille culore non funziona è una carta sporca è stato dato poco risalto al fatto che parallelamente alla compilation ufficiale esiste una compilation di Sanremo con le canzoni in versione pornografica ah sì per esempio Dolce Nera con ora o mai più chiavare fatti bravo basta poco fatti bravo con ce l'ho immensa analisa con il diluvio universale di te lo dico io cosa dite lo dico io cosa però anche il diluvio universale di te non è male valerio scanu con finalmente piove te lo dico io cosa gli intero assoluto con di me e di tega Noemi con la borsa di una donna quella in vera pelle Rocco Hunt con Wake Up con uno spruzzo e ovviamente Elio con vincere l'odio chiavando una delle tante belle canzoni come diceva un mio collega tanti anni fa e qui si ero agli America con un orso senza nome horse with no name meravigliosa canzone bella in tanti ci chiedono visto che arrivano molti messaggi su come fate a essere sempre così di buon umore anche a quest'ora tarda della giornata come fate cari amici ci sono tanti metodi c'è chi fa ricorso a droghe c'è chi fa ricorso a c'è chi fa ricorso c'è chi fa ricorso se sei di cattivo umore noi facciamo ricorso contro la sorte noi che abbiamo provato ormai praticamente qualunque cosa in tanti e tanti anni stiamo usando in questi ultimi tempi una procedura un po' più elementare quasi più rilassante più semplice la sega la facciamo semplicemente nella cara e buona meditazione avete presente ma non è naturale come dicevole come dicevole come dicevole come dicevole come dicevole è naturale ognuno per sé certo è bio è bio quello si fa in un altro momento alla mattina alla mattina quando ci svegliamo noi meditiamo esatto grazie a un corso che ci ha messo a disposizione il nostro gruppo diciamo ah quel corso certo vuolette una lezione e ora ti chiedo di accomodarti di sederti seduto o sdraiato come preferisci lentamente ok e continua così con calma questo tempo è solo per te le tue palle si rilassano il tuo culo si rilassa sempre di più sempre di più e senti anche come i tuoi organi sessuali si rilassano sempre di più e ora senti dentro di te un calore un calore bianco che si espande del sesso bloccato e osservi che anche dal tuo culo esce un altro raggio bianco che va nell'universo e tutte e tre sono piacevoli caldi e freschi allo stesso tempo come preferisci tu tutto quello che tu vuoi che ti piace esce esce dal culo e tu ora sai come ci si sente e piano piano puoi aprire gli occhi ti auguro veramente di divertirti aspetta che un raggio bianco dal culo che vanno l'universo ma è un razzo o un raggio un raggio un raggio scusa ma quanto è erotico l'aceto veneto fantastico ragazzi a Veneto a me sembrava al balese come si fa a Veneto poi diventava un po' perché quel raggio bianco che ti esce dal culo mi arriva dritto negli occhi guarda che occhi lo stai bloccando quello deve andare nell'universo attenzione 21 Pilots su Radio DJ con Stress Down state ascoltando cordialmente sottotitolo sottotitolo cordialmente tutti d'accordo oh yeah io una volta stavo facendo un volo andavo a Francoforte c'erano 21 Pilots sull'aereo che solo litigavano per chi doveva guidare è difficile andare d'accordo a mettere tutti quanti d'accordo ci pensano le classifiche quelle ufficiali di cordialmente per esempio quella di questa sera e particolarmente questa carolino la classifica dei brani dance scelti dal popolo del web perché noi di Elio e le storietese ormai abbiamo capito che il popolo più importante è il popolo del web quello che fa le scelte giuste le scelte che poi tutto il popolo segue perché il popolo del web è come una specie di faro per tutto l'altro popolo io stesso il popolo non del web ormai non conta più niente è come una specie di gregge che segue il popolo del web è la locomotiva bravo è la locomotiva allora anche oggi purtroppo non ci sarà il remix il remix purtroppo è un'eccezione mi dispiace ragazzi mi dispiace ma non è stato possibile tarare la roulette che serve per scegliere il disgiocchio c'è stato un guastotecchio sospetti di brogli erano levati delle lamentere da parte di prezioso e di fargetta perché non uscivano mai ma chissà come mai la roulette era una di quelle che usavano per fare i trucchi diciamo beh va bene in ogni caso è interessante lo stesso perché al terzo posto stabile abbiamo questa settimana Kiko De Matteo con la sorella di Figo ci piace sai la sorella di Figo che tira forte tira tira forte meglio di bene il calciatore vogliamo noi la sorella di Figo che gioca sempre caldo anche quando fuori freddo c'è molto bella c'è chi pensa alla Juve eh io Parma e Milano a volontà ma altri hanno la Lazio quello è il massimo che va noi ti fiamo per noi che non siamo importanti e nei nostri pensieri c'è un solo campione che morire ci fa ci piace sai la sorella di Figo volevo dire una una cosa bella Joe Nasdaq a Ibiza sono andato l'altra sera perché avevo la serata allora vado e fuori dal locale vedo delle facce note purtroppo perché sono quelli che poi dentro danno le pastiglie ai ragazzi che noi cerchiamo come gestione di tenerli fuori però non è sempre perché magari comprano il biglietto non li puoi dire e però tutti fuori tristi dico ragazzi ma perché dicono stasera non si vende niente come non si vende niente perché non si vende niente è perché c'è il pezzo la sorella di Figo che già di per sé è sufficiente provvede ma certo ma certo ma tra l'altro so che al Nasdaq lì danno delle pastiglie stranissime tachipirina c'è quelle robe lì c'è le metanfetamine no ma perché hanno fatto il giro ormai chi cantava la canzone il dissentenne è Kiko De Matteo Kiko De Matteo e al Nasdaq sta andando forte quindi prossimamente anche allo squash allo squash allo squash al numero due al numero due nuova entrata abbiamo Fabio Mancini con Tempo simbolo di credere che è fatti per gioie e tutto il tempo cicatrici non so se canta meglio o suona meglio è un misto delle due cose è un misto del tempo che cicatriza esatto quello che non sa quasi nessuno che chi gli sta suonando la base sotto sono i gentle giant davvero quando erano maleducati vorrei dire a tutti i radioascoltatori che adesso sono impazziti per Fabio Mancini andate sull'internet che è quella che si schiaccia e vengono giù i video e cercate il popolo del web non vi devo insegnare niente i video di Fabio Mancini e la figura meravigliosa della signora che è con Fabio Mancini e poi è quella che suona la batteria qui sono i videi sono i videi era il numero due era il numero due e al primo posto da questa settimana abbiamo Alberto Selli con la Y con O Ballo Do Cavallo O Ballo Do Cavallo è facile non spal non sono troppo e spal e te mi dà cavallo ma chi ti porta un gol non ha d'essere muo se non fornisce un spal si siamo su cavallo puoi andare a marcia avanti puoi andare a marcia indietro facendo un'anziarete vedrai sarà un piacere e oh le mani sulle spalle e oh tappoggi sulla schina e oh il ripipista del Nasdaq da questa settimana O Ballo Do Cavallo molto bella molto bella vorrei sapere come si fa per mandare canzoni nel caso uno le avesse le mura nel cassetto per esempio basta scrivere all'email all'indirizzo mail le cose per cordialmente at dj.t si manda il link qualcuna di queste arriva da lì no nessuna eh beh anche perché è difficile che uno solo abbia una hit cioè è il popolo del web collettivamente che sceglie le hit peraltro il radiofonico che c'è in me mi spingerebbe a allungare un po' questa classifica vogliamo farla fino al quinto posto beh sì perché tra l'altro questa settimana al quarto posto era temporaneamente scesa quello che faceva le pernacchie con la scella e non l'abbiamo potuta sentire vorrei anche poterli sentire hai ragione magari quelle che stanno uscendo di classifica le acceniamo infatti sono d'accordo anch'io che andrebbe dai va bene allora settimana prossima fino al quinto posto eccolo ecco questa settimana è al quarto posto io questo voglio sentire che non si sa come abbia fatto scendere esatto ma lo sai perché? perché bisogna dire che il popolo del web si stanca presto questo sì stanca presto ma noi non siamo il popolo del web siamo gente normale e cosa devo farci vino? ho letto il popolo del web è un po' la testa di cazzo se vogliamo dire è un ragazzo certo ho visto un aggiornamento del tempo di attenzione media sai che è sceso tantissimo la stima un anno fa era tipo 45 secondi di attenzione media per seguire un video su youtube adesso è meno dei 4 secondi quelli per schippare il video parte il video prima e già hanno cambiato i giorni sono così i veri giorni sono così però ci sono dei casi strani per esempio vi dico una cosa è un casa fasane piccolissimo nell'ambito ristretto dei ragazzini che sono sotto di me nella squadra di baseball il tempo medio di attenzione invece è raddoppiato sì perché quando si riduce fanno 5 giri di corsa di campo e adesso sono attentissimi sembra una cosa di che storia baseball questi sono i proclaimers una giro a cento scozzese una canzone che è ormai un classico la trovate in molte serie televisive in molti film erano i proclaimers con I'm gonna be questo è il radio dj state ascoltando io non ci faccio fatica a sentire state ascoltando state ascoltando state ascoltando no 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 ti sto perdendo le cose 899484610 vediamo un po' chi è che ci chiama pronto? è pronto salve da dove chiama? da Caserta bene come si chiama? da Selle Raffaele tu sei stato un grande ricchione mi ascolti? sì 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 da picco le motivazioni certo io ho tante motivazioni da dirti quando sei nato? 26-9-60 ok c'era un ricchione che ti voleva per forza quando eri piccola avevi l'età di 19-20 anni ma poi l'hai fatto? zoc perché? perché era meglio era meglio ok e cosa che scusante hai avuto verso questa persona maschile che ti amava tanto? che cosa gli hai detto? ma scusa non ci avete no no io per chi leggo il futuro ti devo dire tutta la verità però io leggo prima il passato e poi il futuro cosa gli hai detto a questa persona? perché tu hai fatto l'amore con quest'uomo però sono cose tue a me non mi interessano te lo dico perché tu mi hai detto che non l'hai fatto e io ti dico che tu l'hai fatto giusto? no ho sbagliato ho sbagliato ma perché vuoi tu che no hai sbagliato tu comunque io vedevo vedevo una persona maschile che ti voleva in passato all'età dei vecchi tempi tuoi scusami ma allora uno chiama un vecchente ma perché uno chiama? puoi sapere la verità o è smussata? allora io sono un ragazzo vecchente lo so lo so però c'era una persona che ti voleva l'hai fatto o no? non l'ho fatto non l'hai fatto va bene chiudiamo qua il discorso da me cosa vuoi sapere? d'accordo quando è nata quella persona? io veramente sono divorzato si quando è nata la seconda persona? lei è nata ma la cosa è più la cosa è più brutta cara virgine io ti chiamo per il tuo segno zodiacale se tu hai fatto l'amore con un uomo sessuale non c'è una condanna tu sei un separato e questo l'abbiamo capito però ti voglio far capire una cosa da diciamo in realtà ho strunzato a te e allora perché fai un strunzo? perché ti aggerite che in passato c'era un amico tuo un bugino non lo so cioè che ti voleva l'hai fatto o non l'hai fatto? non l'hai fatto non l'hai fatto vabbè chiudiamo qua allora andiamo avanti che vuoi sapere questa donna quanta è nata? di questi io non credo che tu non l'abbia fatto e comunque vai avanti no adesso li ha oberto proprio peccato è così interessante ma li stanno appassionando perché anche io penso che lui l'abbia fatto perché è difficile dire che Gennaro sbagli è andato dritto e poi diciamolo una persona maschile un cugino la persona maschile mi piace tantissimo ma poi alla fine Gennaro ti deve dire la verità o i strunzati? bravo è questa la verità gliela ha detta come farà a capire tutto questo? è Gennaro è quelle leggende scusami come se Gennaro ti dicesse Linus come fai a fare quei capelli introduttivi alle canzoni e finire sempre perfetto? sei leggende sei leggende ma sei anche una persona maschile anche questo state ascoltando il radio di Gennaro la radio con il DJ leggende per esempio potrei dirvi che adesso arrivano gli Harker Fire e ci cantano We Used To Wait gli Harker Fire sono i DJ incordialmente tutti d'accordo ma tutti quanti sicuramente stanno aspettando il gran finale della puntata con le due rubriche classiche che sono il karaoke di Mangoni che è sicuramente pronto per cantare la canzone Nessun Grado di Separazione giusto? esatto di Francesca Michelin ma prima c'è che Storia Channel tu hai detto classico ovvero se te lo sei perso anche stavolta potresti recuperare usando le tecniche di memorizzazione sviluppate da Pico della Mirandola come sarebbe dire chi è Pico della Mirandola? cioè quindi ti sei perso anche la puntata dove si narravano fatti mirabolanti della vita di Pico della Mirandola e allora qui stiamo a buttare il tempo nel water closet grazie water close nello studio della mitologia greca spesso si trascura un aspetto degli dei che è invece assai interessante ovvero la goliardia proprio così gli dei erano scherzosi spiritosi volete un esempio Atena usava prendere in giro Perseo dicendogli sei Perseo 30 Seo e tutti i giorni arrivano dell'Olimpo ma quindi questa battuta non è nata sui banchi di scuola è proprio dell'Olimpo pensa che è grave nel 1980 la Faber-Castell tentò di lanciare sul mercato una nuova gomma per cancellare la gomma pane al salame che avrebbe dovuto soppiantare la classica gomma pane il prodotto però non ebbe il successo sperato perché la fettina di salame di gomma conteneva anche il classico grano di pepe sgradito alla maggior parte degli scolari da piccolo ti ricordi nel 2013 il fisico russo Petalov Tulipanich ha effettuato un esperimento che ha lasciato a bocca aperta la comunità dei fisici partendo dal fatto che l'acqua bolle a 100 gradi Tulipanich ha inclinato una bottiglia d'acqua con un angolo di 100 gradi e dopo un po' l'acqua ha cominciato a bollire guarda che è incredibile i russi sono pazzesci se tu lo inclini 100 gradi 100 gradi sono un po' con la testa in giù col tappo col tappo è oltre 90 gradi non è così categorico io una volta ho inclinato una ragazza a 90 gradi e bolliva lo stesso era bollente la chiena il popolo nomade il popolo nomade dei vudechi vude là dalle origini antichissime è probabilmente l'ultima etnia esistente che venera madre natura e alcune divinità minori ad essa legate tipo papà natura zio natura nonna natura è un loro amico natura un po' come i parenti di Peppa Pig che però forse ce n'è uno che non posso nominare no meglio di no fermati lì l'ingegnere biomeccanico austriaco Karl-Heinz Ideonen è stato un pioniere della robotica nel museo della scienza della tecnica di Vienna si può ammirare il suo uccellino robot ideato nel 77 che era in grado di percorrere piccoli tratti in volo grazie a un chip che bello che bello molto bene per chiudere Mangoni con il suo karaoke siete pronti? pronti vai è la prima volta che mi capita prima mi chiudevo in una scatola sempre un po' distante dalle cose della vita perché così profondamente non l'avevo mai sentita e poi ho sentito un'emozione accendersi veloce farsi strada nel mio petto senza spegnere la voce e non sentire più tensione solo vita dentro di me nessun grado di separazione nessun tipo di esitazione non c'è più nessuna divisione tra di noi siamo una sola direzione in questo universo che si muove non c'è nessun grado di separazione in realtà tu non hai cantato la canzone di Sanremo hai cantato una canzone diversa con le stesse parole no Linus corregimi perdonami se ti correggo qualcuno è mai andato da Ray Charles a dirgli sai che hai cantato una canzone diversa rispetto a quella di Totto Cotugno che era molto più bella ecco imparerà da questa interpretazione Matteo Curti ci può dare una notizia fresca in questo senso perché noi oggi abbiamo diffuso oggi pomeriggio ancora sì abbiamo diffuso questa notizia abbiamo raggiunto tramite social la Michelin che probabilmente raccoglierà la sfida e quindi dovrà rispondere a questo che comunque mette in crisi è una canzone di Mangoni probabilmente sì o comunque dovrà organizzarsi per per rispondere quindi Francesca qual è la hit di Mangoni più conosciuta è la sua versione di In Te di Necch noi ti aspettiamo è una sorta di dissing buono questo aspettiamo la tua versione di In Te in risposta a Mangoni vai collegati vai con la sigla buonanotte buonanotte Francesca Michelin buonanotte questa notte è per te buonanotte buonanotte Francesca Michelin buonanotte questa notte abbiamo finito l'appuntamento per lunedì prossimo ore 22 Radio DJ ragazzi il tempo vola quando siamo insieme sì 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 volevo dire che Francesca Michelin assomiglia a Cristina Ricci un pochino un pochino di occhi grandi neri molto carine abbiamo finito buonanotte grazie ciao 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 arrivederci ciao